Giornata di consiglio comunale oggi all'Aquila con al centro ancora una volta il tema della residenzialità studentesca riportato nel dibattito dal consigliere dell'Aquila coraggiosa Lorenzo Rotellini che vuole sapere a che punto sono le cose. Come si sa la casa dello studente manca in città da ben 14 anni dopo il crollo di quella di via 20 settembre. La certezza è che lì non sarà ricostruita ma si andrà a realizzarne una nuova in via all'educa degli Abruzzi dove si trovava l'ex Carducci. La realizzazione dovrà farla l'azzo ma c'è la questione della permuta per costruirla l'azienda per il diritto agli studi ha stanziato con una delibera a un milione di euro di fondi propri per avviare le procedure tecniche. Una struttura che prevede 100 posti lette e una mensa, la Carducci passa la regione e il sito dell'ex casa dello studente demolita al comune dell'Aquila. Una permuta che abbia un progetto più ampio finalizzata dalla creazione di una cittadella della residenzialità studentesca in centro ma il consigliere Rotellini vuole saperne di più. Sì, questa mattina con l'interrogazione che ho depositato in Consiglio Comunale vorrei capire l'ultimo step che manca per dare inizio alla progettazione e alla realizzazione della casa dello studente che ormai manca da 14 anni. La problematica è in seno al comune in questo caso, ovvero serve capire i tempi certi e le motivazioni dei ritardi per quanto riguarda la permuta tra l'ex sedime della casa dello studente in via 20 Settembre e il sedime della ex scuola Carducci in via Le Duca degli Abruzzi dove dovrà sorgere una parte della casa dello studente. I finanziamenti ci sono, quindi l'unico step che manca è questa permuta e quindi con l'interrogazione cercheremo di capire quali sono i reali motivi per questi ritardi. Grazie 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 Grazie